Cala il sipario sulla perdonanza numero 728, quella di Papa Francesco. Ieri sera con tantissime persone, il rito finale, la chiusura della porta santa ad opera del sindaco Biondi e del vescovo ausiliare d'Angelo, che prima aveva celebrato la messa. È ormai scuro quando la porta viene chiusa, ma Papa Francesco ha lasciato un dono grande alla comunità di fedeli, l'indulgenza lucrabile per un anno, prorogata sino al 2023, un anno giubilare celestiniano, il primo nella storia della perdonanza. La porta è chiusa, ma sarà possibile ottenere l'indulgenza recandosi nella basilica seguendo le indicazioni della chiesa e sarà possibile anche per i malati e gli anziani che non possono uscire di casa, un dono straordinario, l'ha detto anche il sindaco Biondi. Chi meglio degli aquilani, colpiti dal sisma del 2009, dal dolore per le vittime, dalla disperazione della città, conosce il valore della speranza e il ruolo salvifico della preghiera. La bellezza della misericordia di Dio, giudice benigno è il nostro soccorritore, attraverso la chiesa aquilana che ci ha accolto e consolato. La memoria è la forza di un popolo, ha affermato il pontefice, rivolgendosi ai familiari delle vittime del sisma. E quando questa memoria è illuminata dalla fede, quel popolo non rimane prigioniero del passato, ma cammina e cammina nel presente rivolto al futuro. I migliaia hanno seguito la cerimonia di chiusura, come del resto la messa. La basilica di Colle Maggio in questi giorni è stata letteralmente presa d'assalto. Dopo la chiusura, un ricco corteo di rientro ha accompagnato le dame, il giovin signore e il sindaco a Palazzo Fibioni, per il rientro nella residenza municipale. Anche qui, pure tanti turisti ad accogliere i figuranti. Ma non è finita, stasera gran finale anche per il programma artistico, con il concerto di Claudio Baglioni, sold out subito. Il comune ha allestito un maxischermo anche in Piazza Duomo, uno spettacolo pace a noi che metterà insieme i più grandi successi del cantatore romano con brani più particolari legati al tema della pace e della solidarietà.